Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione di geometria analitica sull'ellisse vogliamo dimostrare la formula dello sdoppiamento, anche detta formula della retta polare. In pratica si tratta di determinare l'equazione della retta tangente all'ellisse in un suo punto a partire dalla conoscenza dell'equazione dell'ellisse stessa. Cominciamo con lo scrivere l'equazione dell'ellisse che è x al quadrato fratto a al quadrato più y al quadrato fratto b al quadrato uguale ad 1. Se consideriamo un punto P di coordinate x con 0, y con 0, la condizione di appartenenza di questo punto all'ellisse la possiamo esprimere in questo modo, x con 0 al quadrato fratto a al quadrato più y con 0 al quadrato fratto b al quadrato uguale ad 1. Quindi se il punto P appartiene all'ellisse sicuramente sarà vero ciò che abbiamo appena scritto. Il tutto va messo a sistema con l'equazione del fascio di retta centrato in P. Tale equazione è y meno y con 0 uguale a m che moltiplica x meno x con 0. Bene, se adesso componiamo la prima equazione con la condizione di appartenenza del punto P all'ellisse otteniamo x al quadrato fratto a al quadrato più y al quadrato fratto b al quadrato meno x con 0 al quadrato fratto a al quadrato meno y con 0 al quadrato fratto b al quadrato fratto b al quadrato fratto a al quadrato più y al quadrato meno y con 0 al quadrato fratto b al quadrato uguale 0. Se adesso ricordiamo come si scompone una differenza di quadrati, possiamo scrivere x al quadrato meno x con 0 al quadrato come x meno x con 0 che moltiplica x più x con 0. Tutto questo ovviamente fratto a al quadrato. stessa cosa anche per y al quadrato meno y con 0 al quadrato che può essere scritto come y meno y con 0 che moltiplica y più y con 0. Tutto questo naturalmente fratto b al quadrato a posto uguale a 0. Se adesso osserviamo il nostro sistema vediamo che y meno y con 0 è uguale ad m che moltiplica x meno x con 0 quindi possiamo sostituire y meno y con 0 all'interno del secondo termine. Il primo resterà uguale ad m che moltiplica x più x con 0 fratto a al quadrato più in questo termine al posto di y meno y con 0 sostituiamo m che moltiplica x meno x con 0. Tutto questo moltiplica y più y con 0 ovviamente tutto diviso b al quadrato uguale a 0. Adesso possiamo mettere in evidenza x meno x con 0 che moltiplicherà x più x con 0 fratto a al quadrato più m che moltiplica y più y con 0 fratto b al quadrato tutto questo uguale a 0. Ricordiamo adesso che il punto P ha coordinate x con 0, y con 0 e ricordiamo che questo è un punto di tangenza. Visto che il punto è un punto di tangenza dobbiamo imporre entrambe le soluzioni di questa equazione coincidenti. Quindi se x è uguale ad x con 0 ed y è uguale ad y con 0 devono essere uguali a 0 sia il primo fattore di questo prodotto sia il secondo. Ovviamente x meno x con 0 è uguale a 0 se x è uguale ad x con 0. Vediamo che cosa accade per quanto riguarda il secondo fattore. Dobbiamo porre quindi uguale a 0 x più x con 0 fratto a al quadrato più m che moltiplica y più y con 0 fratto b al quadrato. Ma abbiamo appena detto che x è uguale ad x con 0 ed y è uguale ad y con 0. Quindi tutto questo diventa 2 volte x con 0 fratto a al quadrato più 2 volte y con 0 per m fratto b al quadrato uguale 0. Da questa equazione è possibile ricavare m che sarà uguale a meno 2 volte x con 0 fratto a al quadrato per b al quadrato fratto 2 volte y con 0. 2 e 2 possono essere semplificate ed m quindi risulterà uguale a meno b al quadrato fratto a al quadrato per x con 0 fratto y con 0. Questo valore di m adesso possiamo sostituirlo all'interno dell'equazione del fascio che la voglio ricordare y meno y con 0 uguale a m che moltiplica x meno x con 0. Sostituiamo questa equazione e vediamo che cosa accade. Il primo membro resta uguale a y meno y con 0 uguale a meno b al quadrato x con 0 fratto a al quadrato y con 0. Tutto questo ovviamente deve moltiplicare x meno x con 0. Se adesso moltiplichiamo ambo i membri per a al quadrato per y con 0 otteniamo a al quadrato y con 0 y meno a al quadrato y con 0 al quadrato. Tutto questo sarà uguale a meno b al quadrato x con 0 x più b al quadrato x con 0 al quadrato. Possiamo adesso dividere ambo i membri di questa equazione per a al quadrato per b al quadrato. Il risultato sarà y con 0 y fratto b al quadrato meno y con 0 al quadrato fratto b al quadrato uguale a meno x con 0 x fratto a al quadrato più x con 0 al quadrato fratto a al quadrato. Adesso riscriviamo questa equazione in una maniera diversa per ottenere y con 0 y fratto b al quadrato più, portiamo questo termine al primo membro, x con 0 x fratto a al quadrato uguale x con 0 al quadrato fratto a al quadrato più y con 0 al quadrato fratto b al quadrato. Se adesso osserviamo che il secondo membro di questa equazione è uguale ad 1, possiamo riscrivere in definitiva tutto in questo modo qui. x con 0 per x fratto a al quadrato più y con 0 per y fratto b al quadrato uguale a 1. Bene, questa è l'equazione della retta tangente all'ellisse nel punto P, che ricordo a coordinata x con 0 y con 0 ed appartiene all'ellisse. Quindi questo è un metodo molto semplice per determinare l'equazione di una retta tangente all'ellisse in un punto che appartiene all'ellisse. Quindi attenzione a questa condizione ragazzi che è fondamentale, il punto P deve appartenere all'ellisse. Basta sostituire all'interno dell'equazione dell'ellisse, al posto di x al quadrato, x con 0 per x. Al posto di y al quadrato, y con 0 per y. Bene, per quanto riguarda questa lezione non c'è altro, faremo degli esempi nelle future videolezioni. Nel frattempo vi ricordo che nel caso in cui aveste dubbi o domande, vorreste sempre far riferimento al nostro forum e che per tenervi aggiornati in qualche modo potete iscrivervi al nostro canale YouTube e mettere il mi piace sulla pagina Facebook. Intanto vi ringrazio per aver seguito questa lezione.